Siamo con Elio D'Annibale, segretario regionale del CONAPO ma anche coordinatore per il Centro Italia di questo sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco. Ieri sull'onda degli incendi che hanno colpito la costa abruzzese il sindacato ha denunciato circa 200.000 euro di tagli al servizio antincendio da parte della regione. Qual è la situazione D'Annibale? La situazione purtroppo è quella drammatica sotto gli occhi di tutti. D'altra parte noi già dal primo luglio scorso quando ci siamo stati informati dalla nostra stessa amministrazione che è il nostro interlocutore e cioè dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco di questo taglio che la regione Abruzzo aveva previsto per la convenzione da stipulare con noi abbiamo fatto presente che era un fatto gravissimo, non fosse altro perché è vivo ancora in tutti noi, nella mente di tutti noi quello che è accaduto lo scorso anno con Montepettino e con Arischia. Gli anni precedenti ricordiamo bene il Morrone, tutto quello che su base regionale è accaduto e di anno in anno purtroppo accade e i migliaia di ettari che dobbiamo ogni anno mettere a bilancio per quanto riguarda il territorio bruciato e quindi abbiamo da subito denunciato il fatto che era gravissimo questo taglio. Lo abbiamo anche ribadito a mezzo stampa, abbiamo chiesto sia alla nostra amministrazione sia alla regione Abruzzo di mettere subito il riparo, anzi di incrementare quei fondi rispetto allo scorso anno invece non siamo stati ascoltati, la campagna boschiva è andata avanti per fortuna finché il meteo è stato benevolo, tutto è stato più o meno sotto controllo ecco qua in questi ultimi giorni con il meteo che le temperature che ormai si registrano da giorni, da settimane particolarmente torrida è scoppiato il caos. Qual è l'appello che adesso fa il CONAPO all'amministrazione regionale? Noi chiediamo che vengano immediatamente ripristinati i 180.000 euro che sono stati decurtati dalla Convenzione in corso ma anzi venga incrementata i fondi per questa IB, non meno di un milione di euro può essere destinato a vigili del fuoco solo per questo 2021 e in questo modo tentiamo di riparare i danni e di mettere una pezza a quello che purtroppo sta accadendo su base regionale dopodiché c'è anche un problema atavico e cioè la carenza di uomini e mezzi in particolare di personale che come Corpo Nazionale soffriamo ma questo è un altro argomento, un altro capitolo che certamente affronteremo con la nostra amministrazione. La Regione ha dovuto far ricorso a mezzi che sono arrivati da fuori il territorio voi che cosa pensate di questa operazione? Pensiamo che quello dimostra ancora di più quello che noi stiamo sostenendo confermo che anche i vigili del fuoco sono arrivati da altre regioni parlo della Toscana, parlo della Campania, parlo dell'Emilia Romagna anche da Ravenna sono arrivati dei colleghi questo dimostra che se ci fossero state, se noi avessimo potuto mettere sul campo più squadre perché la Convenzione e quindi i fondi della Regione Abruzzo ce l'avessero permesso ecco qua che non sarebbe stato necessario far venire colleghi da fuori Abruzzo con tempi di intervento ovviamente immediati, più veloci e peraltro non distraendo questo personale dal soccorso ordinario che pur sempre dobbiamo garantire perché poi se scoppia un incendio a Pescara come all'Aquila come a Teramo non è che poi noi ci dedichiamo solo a quell'incendio c'è il soccorso ordinario quotidiano che dobbiamo garantire